Ciao amici di ElettraTV, bentornati. Come probabilmente molti di voi sapranno, si stanno svolgendo in questi giorni le finale mondiali Ferrari a Imola. Se anche voi volete sapere cosa si prova nel backstage, qual è l'atmosfera del backstage, nel paddock delle finale mondiali del Ferrari Challenge e Formula 1, vetture e clienti, beh, questo video è per voi, perché noi siamo andati proprio nel backstage. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.